L'attenzione maggiore è rivolta al campo perché la salvezza va ancora messa in ghiaccio. 11 partite da giocare non sono poche, gli 8 punti di vantaggio sul Verona non autorizzano nessuno a sentirsi già al sicuro. Sono però un margine importante da cui ripartire dopo la sosta per completare l'opera portando a termine la missione senza troppi affanni. Con l'avvento di Paolo Sousa la Serenitana ha raddoppiato il vantaggio sulla zona a rischio ma non è solo questione di punti. Atteggiamento, mentalità, approccio al lavoro quotidiano e dalle partite sono cambiati. Di progressi del collettivo e di molte individualità ne sono state una conseguenza. Con il suo lavoro insomma Paolo Sousa finora ha reso merito anche a quanto fatto in estate dalla direzione sportiva ed ha permesso alla proprietà di non vedere svalutati alcuni importanti investimenti sostenuti. Il tecnico portoghese era un centrocampista tignoso ma anche molto bravo nel dirigere il gioco ed allenatore ha fornito un bel assist alla Salernitana. I soldi spesi in estate ora non sembrano più sperperati. Da Pirola a Sanvià, da Dani Luca Braderce passando per D.A., il lavoro di scouting della squadra di mercato guidata da Morgan De Santis si è rivelato pertinente ed accurato. E c'è di più. L'estate scorsa il DS Granata e i suoi collaboratori avevano messo nel mirino calciatori che non sono stati acquistati dalla Serenitana ma che hanno fatto bene altrove nelle squadre in cui già militavano. Ha fatto piangere di recente la Lazio in Europa il centravanti greco Vangelis Pavlidis in forza gli olandesi della Zeta con cui ha superato la doppia cifra in campionato. Era stato seguito a lungo dalla Serenitana che aveva poi intensificato i contatti con Artem Dobik, corazziere ucraino del Nidipro, il cui approdo in Granata salto in extremes ma che a dicembre di quest'anno sarà svincolato. La prossima estate per lui potrebbe essere quella del grande salto e chissà che la Serenitana non ci riprovi. Un nuovo tentativo verrà fatto per Nel Mopé, attaccante franco-argentino in forza all'Everton dove non ha brillato, almeno dal punto di vista realizzativo come nella precedente esperienza al Brighton. La squadra di Liverpool è tra quelle da tempo interessate a Diapri, il quale a giugno la Serenitana verserà 12 milioni al Villareal esercitando così il diritto di riscatto e riservandosi in seguito di valutare eventuali offerte per il senegalese. Mopé è assistito da Pastorello che anche di recente ha messo la voglia d'Italia del calciatore nativo di Versailles. Si vedrà. L'Everton detiene anche i diritti sul cartellino del difensore centrale Michael Keane, qui De Sants ha pensato nei mesi scorsi. Tornando alle punte, il DS Granata aveva messo gli occhi su Terem Mofi, nigeriano del Lorient, poi passato a General Nizza ed autore finora di 15 reti in Ligan, una in più del senegalese Diallo dello Strasburgo, altro obiettivo estivo della dirigenza Granata. In Alsazia ammita anche il centrocampista Jean-Richner Belgar, molto stimato dall'area scouting della Sanitana ed appena tornato in pista dopo un infortunio che l'ha ottenuto fuori diversi mesi. Contratto in scadenza nel 2024, anche egli potrebbe tornare ad essere un nome caldo per la futura mediana Granata al pari di Somme Bernabè del Parma, vecchi pallini che potrebbero non essere passati di moda. Uno dei sogni Granata risponde al nome di Cern Dur, 2004, talento purissimo che incanta al Benfica e che ieri è andato in gol con la maglia azzura dell'Under 20. Il lavoro di ricerca e selezione di potenziali obiettivi di mercato da parte dell'area tecnica Granata è davvero certosino e soprattutto attento a tutti i campionati. Fra i profili sudamericani attenzionati ad esempio c'era Johnny Cardoso che di recente ha prolungato fino al 2026 il suo contratto con l'International di Porto Alegre e proprio il gran lavoro di scouting della squadra allestita da De Santis è stato menzionato e sottolineato anche dalla Di Mila non più tardi di un paio di giorni fa. Un lavoro molto apprezzato dal club che dovrebbe portare come sbocco naturale alla permanenza di De Santis insieme a quella di Sousa in panchina. Il primo acquisto per la prossima stagione negli auspici del club è proprio la conferma del trainer portoghese che ora pensa solo alla salvezza ma che tra le righe delle sue dichiarazioni non ha mai escluso la possibilità di ripartire da Salerno. Tutt'altro, nelle sue lunghe giornate almerosi tra allenamenti, video, riunioni e colloqui con collaboratori, dirigenti e calciatori Sousa si concede brevi momenti di pausa col mare sullo sfondo e quando volge lo sguardo all'orizzonte vede cose importanti per il futuro della salernitana.